I farisei, domandando quale sia il più grande e il più importante comandamento, esprimono il desiderio di trovare centralità nella propria vita e quale direzione fondamentale far prendere le proprie scelte. Dal Vangelo secondo Matteo I farisei, avendo dito che Gesù aveva chiuso la bocca ai Sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge. Qual è il grande comandamento? È una domanda che noi stessi potremmo arrivare a chiedere a Gesù. Cosa è davvero importante? Cosa è essenziale per essere felici e vivere pienamente? I farisei non chiedono semplicemente un comandamento, ma esprimono il desiderio di essere felici. Potremmo tradurre in molti modi questa domanda nella nostra vita. È l'intuizione che nella vita ci sono tante cose importanti, ma non tutte lo sono lo stesso modo. Quando si mette tutto sullo stesso piano, alla fine nulla ha davvero valore. Finiamo con l'essere spinti come una bandiera in mille ottime direzioni. Riconoscere che c'è un imperativo al di sopra di tutti gli altri orienta tutta la nostra vita. Permette a chiunque di far stare nelle proprie giornate anche le briciole se prima ha dato la priorità a ciò che è essenziale. Gli rispose Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. La prima parola del primo comandamento dice già tutto. Amerai. E l'amore è il primo e fondamentale motore del tutto. Non c'è altro che questo, ma anche l'amore ha bisogno di una direzione. L'amore è un'energia troppo potente per essere sprecata e va orientata se non vuole diventare distruttiva persino. Destinatario principale, direi, unico e solo e soltanto Dio. Ma perché amare con tutto se stessi colui che più di ogni altro non ha bisogno di essere amato? Il nostro amore non aggiunge nulla a Dio che ha già la pienezza di tutto. Se avesse bisogno di essere amato da qualcuno, non sarebbe davvero Dio. Questo comando ci dice però molto di più. Ci dice che io ho bisogno d'amare e che il mio bisogno d'amare è tanto grande che solo verso un amore infinito mi posso orientare. Quale grande potenziale abbiamo e che non comprendiamo e non esercitiamo? Il secondo, poi, è simile a quello Amerai il tuo prossimo con tutto te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. L'amore per Dio diventa la base per l'amore verso il mio prossimo, il mio fratello. La grande rivoluzione operata da Gesù non sta nell'aver inventato questi due comandamenti che già c'erano, ma nell'averli collegati, dicendo che sono simili, che sono legati l'uno all'altro, nell'averci insegnato che la fede e la vita sono intrecciate, che la religione non è qualcos'altro, che il primo comandamento rimane il primo, ma che io lo vivo solo se imparo a vivere il secondo al servizio del primo. L'amore non è una questione di bei sentimenti, di belle poesie, ma è qualcosa che dico e faccio, che il tempo che vivo pregando Dio diventa la palestra per imparare ad amare gli altri. Grazie a tutti.